Nuova Pescara, prova, diffusione. L'idea dell'assessore Alfredo Cremonese del Comune di Pescara è quella di organizzare il primo grande evento, mettendo intorno a un tavolo i tre comuni. L'assessore Rullo Dispoltore ha manifestato apertura come riporto al quotidiano Il Centro. Da Deborah Comardi, invece, assessore agli eventi del Comune di Montesilvano, non è pervenuta alcuna risposta. Allora, no, in realtà non è che a questo invito diciamo di no. Io non è un segreto, non sono a favore della grande Pescara. Tuttavia ritengo che l'unione di forze sia sempre una carta vincente. Detto questo, l'idea di avere un qualcosa da poter costruire insieme sicuramente è un'idea positiva ed è un'idea che deve essere presa in considerazione. Tuttavia, noi aspettiamo, prima di poterci pronunciare concretamente, di sapere quali saranno le idee da porre sul tavolo. Bisogna analizzare le questioni logistiche, bisogna analizzare a livello economico come ci si intende muovere. Si può fare una prova di fusione di questa nuova municipalità partendo dagli eventi? Però io non credo che la priorità della grande Pescara sia unire gli eventi. Non penso che possa essere un punto di partenza. Le criticità e le problematiche sono ben altre. Le energie su cui doversi concentrare sono altre. Io penso ad esempio al sociale. Dunque, come vogliamo fondere i servizi sociali? Penso, ed è una questione anche che mi preoccupa moltissimo, al bilancio. La fusione dei bilanci tra Montesilvano, Pescara e Spoltore. Come si intende affrontarla? Io ho avuto la delega al bilancio per sette anni a Montesilvano. Sono fortemente preoccupata, non lo nego, non lo nascondo. La Tari? Siamo sicuri che rimarrà agli stessi livelli di ora? Io spero di sbagliarmi, ma qualche dubbio in merito ce l'ho. La disponibilità e la gestione di Montesilvano, Pescara e Spoltore a livello di bilancio è differente. Quindi noi sappiamo benissimo che Pescara ha, purtroppo, diverse problematiche e diverse criticità che i comuni di Montesilvano e di Spoltore non presentano. La questione quindi mi preoccupa alquanto. Grazie a tutti.